Direttore Bolla, innanzitutto benvenuto a Teramo, sa che ti aspetta un grande lavoro e manca davvero poco tempo all'inizio del mercato, questa nuova avventura come la intravedi? Innanzitutto grazie per il benvenuto e speriamo in bene, incrocio le dita. So che sarà un'annata difficile, sarà anche un mese difficile questo dove bisognerà capire effettivamente se intervenire e dove intervenire. Credo però, credo una cosa, credo che chi ha costruito questa squadra l'abbia fatto in maniera importante e in maniera ottima, perché comunque fanno parte tanti giocatori che hanno uno spessore umano molto alto. Io credo che in questo momento dove le cose vanno un po' meno bene, perché 13 punti capisco che per la squadra e per il Teramo sono pochi, però credo anche che ci sia una buonissima organizzazione, una buonissima prospettiva già da questa rosa. Ecco, il marchio di Alec Bolla sarà anche un po' di discontinuità a gennaio rispetto al recente passato oppure magari proseguirai sulla linea della continuità, cioè non facendo scelte radicali nel mercato di gennaio? Credo che gli equilibri in uno spogliatoio, in una rosa, siano fondamentali. Ecco, quindi devo capire e vorrei capire determinate situazioni, determinati meccanismi. Dopodiché capiremo se alcuni giocatori rimangono con la testa giusta, vogliono entrare con la testa giusta, vogliono andare via. Devo capire ancora un pochino queste cose. È chiaro che qualche idea ce l'ho e qualche idea la porterò avanti e probabilmente la metterò anche in atto. Dei giocatori fortunatamente ne conosco parecchi, però ecco, io vorrei ripartire, cioè partire nella mia nuova avventura considerando in maniera anche importante i giocatori che ci sono in essere.